ciao a tutti e benvenuti al gameplay è rimasto che avevo affrontato le velocitrom e la scelta sagina nella missione esplorativa e mi hanno affrontato qui quindi proseguo qui ho tutto quello che mi serve quindi vediamo un po' chi c'è ok scelta sagina ambiente stabile ok allora iniziamo così ma almeno affronto un nuovo mostro che è il tatasukabra allora iniziamo sempre da qua come ragazzi se riesco edito il celtas e affronto solo il tatasukabra così non vado a ripetermi con un mostro che ho già affrontato beh vediamo ragazzi benvenuti a Jurassic Monster diciamo così stavolta dove sono qua non non funghi direi che sono a posto eh sì perché tanta roba qua un altro scorte da raccogliere che fanno sempre comodo qui ci vado tra poco no 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 che figata sto punto, vabbè, si sta assoluto qui riparati, vecchio rettina, chi vuoi che se lo cagli, perché mi dà sta roba poi, non so, vabbè, e qua, guardate che spettacolo, figata assurda, si sta buona, qua non mi interessa, ok, proseguiamo, qui c'è un po' di acqua, e non c'è altro, allora, vamos, si piccola, vabbè, sfruttiamo sto cavolo di piccola, ma che cazzo mi ha colpito, c'è, mi avete colpito voi ragazzi, ma siete pazzi, c'è, ho capito che tra i due litiganti il terzo godine, ma io non ci guadano niente, quindi andate a litigare dall'altra parte ragazzi, e qua spadisce la roba davanti ai miei occhi, che cazzo è sto suono, banara, da romperlaz, stai buoni, fate la pace, e coperate anche voi, insieme a me, un po' di erbe, un po' di erbe, altro, una patata no, belone, ah, è ricomparsa l'erba che mi ha rispariettato dagli occhi, l'erba di questa piantina, guarda, ok, allora, proseguiamo, chi è? eh, ciao Seltas, vorrei salutarti, molto volentieri, come al solito, non mi metto a guardare da che punto arrivo, e, succede questo, bene ragazzi, è un bene che, è un bene che, sia già arrivato così, che, passa il tempo, e, poi si caverà dalle scatole, a conto suo, a conto suo, ciao, slack dot, vediamo se la posso piccolare qualcosa, mi sento altrimenti no, infatti, ecco così, ecco così, ecco così, stai cambi, mi raccomando, scommetto che sono tornato indietro, oddio, oh my god, e non è, cioè, non voglio tornare alla base, c'è, di già, dove cavolo sta il tessu capra, c'è qualcosa che non quadra, c'è sotto la regua, tessu capra, dove sei tu? misteri di Monster Hunter, eccolo il tessu capra, che volevo tanto, ciao tessu capra, piacere, incontrarti, d'aspettato, e vieni Latina, bam, 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 bam. ha fatto male aiuto alla faccia momenti bravi ragazzi venti sta aiuto sta calma la tua scapra date la calmata calma la tua senta calma la tua senta calma la tua calma la tua senta ma stauda in quanto riesce solo con la mano ma va, ovvio ma giusto e poi incazzato eh 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 cazzo venga, sai il cazzo che cazzo è successo? perché questo suona? avete raccolto qualcosa già ragazzi no perché non me lo do più? cioè è impossibile che voi l'avete già fatto fuori è impossibile non ci posso credere ragazzi è già morto non ci credo non ci crederebbe 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 è molto più è importante non ci crederebbe che ci crede Una taglia che torna sempre indietro, cazzo. Bene. Visto che è morto così velocemente il tetto su capra, posso andare a, se finalmente, battere Seltas Montivoglio. Ciao Seltas. E' rotto un pelino le palle. Le faccio fuori anche voi lei. E' morita. Non capisco perché ci sono sempre queste mosche che rompono le palle. Propriamente le faccio anche un play, che cavolo. Se ne andiamo a farlo apposta, cazzo. Bene, che vuoi? Scegli andati. Faccio un bel con questo, giusto in testa, non puoi battere, sarà bello, non ho nessuna speranza di potermi battere, bene adesso tocca a te Slagdott che sei rimasto da sole e poi di lega dalle palle veramente molto piglio. Vabbè, a questo punto reclore un po' di insetti e via. Un altro slacktot. Guardatelo, ciao! Vabbè ti lascio in pace, no? Esca mosca, non mi sembri le erbe comunque. Soltas, ti cavi la palla? Mi fariesti un gran favore. Quando devo batterlo, fugono all'istante. Quando invece si aspettava che bisognava fare dei coglioni, stanno tre ore. E' ovvio, non potrebbe essere diversamente. Vabbè, intanto vado qua tanto. Ti aspetto che sei andata fuori dalla cazza. Salve vecchio. Va bene. che palla che sei andata fuori dalla cazza. che sei andata fuori dalla cazza. Vabbè, si vedi che non conosce nessuno. La ringrazio. Vabbè, questa volta. Ah, che sta levitali. Va bene. Basta vecchia. Qui si fa un piccolo voletto. Ah, ah. Finalmente il suo stronzo. Vabbè, questo è arrivato dai coglioni. Ciao. Bene. Provedo a tornare indietro. E vedere se incontrerò qualche altro mostro. Al posto da Certas. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Buona cara. Non trovi problemi? Grazie pochi. Sì. Basta neagolare. Un'altra scorta. Sempre questa scorta del cazzo. Un altro funghetto. Al posto di questo tolgo ovviamente le piccole ovecchie. Vediamo un po' se posso togliere qualcosa. Mamma mia tolgo la carne cruda. Non compai nessuno? Bella ragazzi questa. Non compro un cane. Stavolta mi sembra che il bosco eterno si sia riempicciolito. Che è sto casino? Nada. Allora sei tu Robin. Che fai sto casino. Ragazzi non compare più nessuno. Io che volevo affrontare un'automostra. Possibilmente mai incontrato. E invece non trovo nessuno. Vado a scello tranquillo. E gravios si cazzo mi ha scappato. Ciao gravios a merda. Questa ragazza mi ha scappato. E va bene. Stai sciando eh. E va bene. E va tranquillo eh. Minchia. Adio tolgo. Oddio ragazzi. E va bene. E va bene. Non vado a fanculo, stronzo, vado a fanculo, via, via, mezzo can, finge di puttana. Sto lasciando fuori e se l'ho trovato tutto lui, faccio, che problemi ha, ah, io no, non c'è nessuno ha problemi, forza ragazzi, è tirata la canonata. Non vado a fanculo, stronzo. Aiuto. Forza ragazzi. Non vado a fanculo, non vado a fanculo. Non vado a fanculo, non vado a fanculo. Non vado a fanculo, non vado a fanculo, non vado a fanculo. No, ti ho metti con l'azzata, son stronzo che è povero. Prima di rompire le parti a voglia. ma comunque un po' che ho massacrato E beh, ovvio no? Occio Parchi forza riprenditi Dove va il signorino? Non ho sbagliato Vedo il commento all'assistenza Se no qua ci metto di più da levare da lui E ci piace rosse Porca miseria, questo è un altro nuovo Eh vabbè Bortace 2 Bravius Almeno questo però cazzo Bortace 2 Ahahah Si fa male eh Per lui ragazzi si fa male E' come se fa male Capotevi E' un po' Ho tirato, l'ho tirato per la zacchetta E' un problema che non ho, ti ho spaccato il corno Rada, ovvio Gravius Tanto caro Gravius, stavolta ti faccio fuori Un po' di pappini che li ho tirati Occio che arriva Questa è anche male signorina Questa è un po' di pappini E' un po' di pappini E' un po' di pappini Adesso mi seguino questa Merda Adesso mi sono vicino alla fine, cazzo Forza ragazzi, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo E' anche stufo Dovete mancare molto poco Purtroppo non ho più pozioni Porca puttana Eeeh, date una calmata Eeeh Aiuto Ho 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 T'ho fattuto Oh ma si deviate fare una caprione? Non vai a fangulo stronza Strezza di merda Adesso ho anche questa che non vada più Ah si, la posso Meno male che ce l'ho fatta Vai a fangulo Vai a fangulo Eeeh Eeeh Proprio quello che volevo Stavate rosso da qua E' vale Adesso Adesso lunedì Szeee Ragazzi è andata l'ho fatto fuori, stronza bene, non ragazzi neanche il mio accenno di di fuga very good spalcate bene ragazzi, mi raccomando bene e io posso tranquillamente andare sicuramente starò sbagliando appunto non mi ricordo mai non sono arrivato adios, grazie che fuga pure, non mi interessa tanto i miei mostri abbattuti eccolo qua ragazzi ciao ci piace ross spiacente ma allora questo non mi arriva a te allora scaglia data su cabra alla gravios, colazza gravios, colazza gravios allora voi ragazzi ti raccomando tu pacchi netta la forza fuoco erba e tu robin lecchio piccone bushin set resta alla ventri allora mi sono ci sono due punti premio caccia io ho preso 5,5 punti pacchi 80 punti buono subiettivo 1,2 2,5 punti totali tasso scoperto con la letra a quattro ottimo minore missione di giri disponibile basa rossi e yan kutsu ottimo un'altra missione disponibile del oxydrome ottimo vabbè quasi enorme beh ragazzi questo è un break e ciao al prossimo ciao a tutti